Burbera, sedicente burbera, chi l'avrebbe detto, nascondevi un cuore d'oro Elio e le storie tese, benvenuti a Radio Bruno Eeeh, grande entusiasmo, grazie Elio Efaso per la precisione, io ho davanti il vostro disco Figatta de Blanc Figatta, con due G, figatta, che ricorda Regatta de Blanc dei Polizzi Sì, non si ricorda un po' quello e un po' delle altre cose Comunque anche Figatta, perché quando uno dice Figatta, che figatta, è più evocativo di Regatta È più evocativo, fa pensare a una cosa bella Ecco, una cosa bella, sì, la Regatta, il Blanc, il vino bianco Il vino bianco, anche se il disco è giallo Quindi è un po' un trabocchetto, diciamo Con una copertina che mostrerei alle telecamere E ciascuno ne tragga un po' le conclusioni che desidera È la pace, è la pace D'altra parte noi siamo andati a Sanremo con il brano Vincere l'odio, anche se non ce l'abbiamo fatta Beh, l'odio dura da parte Perché l'odio, devo dire che è forte È forte l'odio E piace, l'odio piace Però noi comunque siamo contenti di essere andati Di aver intrapreso questa battaglia Anche se abbiamo perso alla fine E abbiamo cantato la pace Viva la pace E questa immagine è un po' viva la pace Che Dio la benedace Mi piace, mi piace È un simbolo della pace Un bellissimo gioco di parole Abbiamo parlato dei police e anche del police Che non c'è in questo disco, raccontatemi No, non c'è Di Stuart Copeland, il batterista dei polizia Perché molti lo conoscono, dicono il batterista dei polizia Ma non sanno che era il batterista dei polizia Sì, sì Che sostanzialmente avrebbe voluto suonare In una canzone del nostro album Ma solo se la canzone del nostro album Fosse stata veramente brutta Bene, cosa è successo? Lui l'ha ascoltato e ha detto Oh ragazzi, non c'è una canzone veramente brutta Non suono Però è tra i crediti È tra i crediti, sì Perché comunque Hai visto mai Mettica l'ultimo, cambia idea Già lo mettiamo Perché come sai La copertina devi prepararla prima Ci mette più tempo È vero I tempi di realizzazione della grafica di un disco Sono più lunghi della stampa del CD stesso Quindi devi consegnarli prima Non è che poi dopo l'abbiamo nel disco Copeland E non lo scriviamo Meglio scriverlo e non averlo Uno diceva Ma così ingannate il pubblico E allora E allora che importa? Tanto tutti ingannano il pubblico Tutti ingannano tutti Anche al festival Tu sai che dicono Arrivato primo quello Terzo quell'altro Quinto quell'altro Dodicesimo quell'altro Ma non è una gara vera Nel retropalco del festival C'è l'estrazione Si estraggono i posti E quest'anno Sono usciti quei primi tre lì Gli stadio Cioè tutti contenti Come la rotteria Come la tombola Come la tombola Allee abbiamo vinto Esatto Invece Beh c'è da dirle Ma ti pare che uno scanu Possa arrivarci dietro Ma la Impossibile Impossibile È uscito fuori Il tredicesimo scanu Tu ti immagini la dea bendata Che aiuta a estrarre Invece è la dea bondata In bondage In bondage E torniamo al tema portante Esatto Bene che è tutto collegato Perfetto Mi piace molto 27 anni passati dal vostro primo disco Come avete fatto Mi hanno detto così Diti che non è vero Ah sì 27 anni Ebbè sì 27 anni Qualcuno diceva Che tra l'altro 27 anni fa Eravamo qui Eravamo qui a presentarla È meraviglioso 27 anni fa Come ci trovi Ci trovo molto ben conservati Ma più che altro Volevo capire Come Non era ancora nata Come esatto Bravo grazie Hai visto Perché avessi vinto una foto Ce n'ha pagata Ci sarà un reportage No assolutamente Ha ragione lui Volevo domandare Come avete fatto a vincere l'odio Che di solito Attanaglia le band Dopo un lungo periodo Cioè come diamine Fate ad andare d'accordo Quello L'odio interno L'odio intestino La lotta intestino L'odio interno Diciamo che nei primi anni Ce l'abbiamo fatta Grazie a degli avvocati Ottimi avvocati Tu sai che nella vita L'importante non è La bella moglie La bella casa Ma è l'avvocato Un ottimo avvocato Non un buon avvocato Ottimo E noi abbiamo degli ottimi avvocati Per cui non appena Anni fa C'era un minimo scontro Ma su qualsiasi tema Pagami un caffè No te l'ho già offerto ieri Avvocato 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 E siamo stati assieme Negli anni critici Siamo andati avanti bene Grazie agli avvocati Ora siamo Talmente tranquilli Ormai c'è la pace Dei sensi Per cui Non gliene frega più niente A nessuno Anche se Diciamola tutta Quando si sta per scatenare Anche una minia Piccolissima lotta intestina I nostri avvocati I nostri avvocati sono così bravi Che ci danno i fermenti lattici Che sai che aiutano A combattere la lotta intestina Anche se glielo vai a dire Comunque a un altro Anche se Cerca di stare tranquillo Cerca di parlare Guarda che se voi andiamo fuori Andiamo fuori Ne discutiamo da uomini No calma 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 anche perché vorrei ascoltare Una canzone dal disco Per poi tornare in diretta Ed è Vacanza alternativa Sì D'accordo con me Sì certo Ok a me piace molto La ascoltiamo Anche a noi Dopo la commentiamo Vacanza alternativa Di nuovo in diretta Con Elio e Faso Ciao ciao ragazzi Come va? Bene Era vacanza alternativa Dunque io vorrei capire Perché l'ispirazione Dei fanghi termali È un'idea nuova Perché bisogna sempre Non è cambiato L'artrosi E frequentiamo No Chi ci segue Noi ci annoiamo presto Perché Ogni estate Bisogna andare al mare Oppure se non vai al mare Devi andare in montagna Com'è bello Andare invece Dove va La nonna Dove vanno le persone anziane Per esplorare Il mondo degli anziani Che è interessante Che è il mondo Delle terme abbandonate Perché sai che Non ci vanno più alle terme Non è più come vent'anni No Adesso ci vanno i giovani Ci sono le cose Ci sono le cose Ci sono le giovani Ma non sono più terme Sono spa Spa Invece noi Parliamo delle terme Quando si chiamavano terme Diciamolo Non piacevano a nessuno A nessuno Un po' come Erano da vecchi Abbiamo anche trattato L'argomento del disco Banalmente Tu immagini Se adesso un ragazzo esce E si compra un paio di occhiali Ma siamo fuori di testa Si compra degli eyewear Cioè con gli occhiali Sei uno sfigato Posso usare questo termine forte Come anche Vuoi andare alle terme Io frequento una spa Oh dove Vengo subito E' vedi che è tutta un'altra cosa Mi fa pensare a Parla come mangi Che è la terza canzone Che tocca questo argomento Però capisci che per essere fighi Cioè per darsi un tono Devi basta cambiare le parole Alla fine Invertire un po' Mi piace Chiedi all'avvocato E l'avvocato trova subito le parole Allora nella canzone che avevo appena sentito C'era la meravigliosa Paola Folli Ma sono tante le collaborazioni di questo disco Anche in una collaborazione postuma Di cui mi piacerebbe parlare Eh questa si che interessa Ma tu sei un venditrice Questa è veramente una bomba Posso dirlo come collaborazione No ma è veramente una cosa bellissima Com'è nata? Come avete fatto? Com'è nata? Com'è nata? Eh tu sei Sei tutto sempre tu No tu sei sempre tu Parli sempre tu Chiamo l'avvocato Esatto Ti faccio la raccomandata Cosa è successo? Due anni or sono Al primo maggio Quel concertone lì un po' cacciarone Il primo maggio Dove noi eravamo invitati Vittorio Cosma Gestiva l'orchestra L'orchestra La grande orchestra Progressive E per Progressive Intendo dire Quella musica complicata Degli anni settanta Che non si fa più tanto C'erano vari esponenti Del Progressive Tra cui alcuni componenti Del banco del mutuo soccorso Ed ecco che salta fuori Francesco Di Giacomo Con il quale Chiacchieramo ammobilmente Nel retropalco Posso dare un termine forte Nel backstage Il cantante Del banco di motor soccorso Esatto Scambiandoci Reciproci Complimenti Grandi apprezzamenti Sulle musiche Di entrambi i gruppi Cioè Gli ho le storie tese Il banco di motor soccorso E niente Poi cosa è successo? È successo Che Francesco Di Giacomo È mancato Un incidente automobilistico Cosa tristissima E un nostro fan storico romano Ci ha detto Guardate che la moglie Di Francesco Di Giacomo E un caro amico suo Paolo Sentinelli Che suona il piano Hanno una canzone bellissima Che Francesco aveva composto Di cui ci sarebbe anche solo la voce E alla moglie E a lui Mi piacerebbe tantissimo Che voi provaste A scriverci sotto la musica Cioè in realtà A riarrangiare la musica sotto Questo l'abbiamo fatto Con grande piacere Grande umiltà E devo dire Che riascoltarla Mi fa venire qualche brividino È una canzone bellissima E lui aveva una voce Possiamo dirlo Perché non l'abbiamo fatta noi Esatto È bellissimo Non è che posso dire Gli strumenti Si autocelebrano No No Questa volta state elogiando qualcun altro Tra l'altro violino Mauro Pagani Eh sì Violino rock Altro tocco di grande classe E tocco di progressive Perché che lui Insomma Viene da quel mondo Invece altre collaborazioni J-AX Questa mi ha un po' colpito Ma J-AX Com'è andata Che nel mondo così Milanese Dell'Interland Eccetera Ci si frequenta tutti Un po' No Per cui lui mi aveva chiesto Di cantare in una sua canzone Che si intitola La tangenziale E casualmente Noi stavamo scrivendo Una canzone Che parlava delle code In tangenziale Per tangenziale Intendiamo quella strada Che corre tutto intorno alla città Diciamo Tu hai trovato una coincidenza Pazzesco E' un'idea E' un'idea Che credo Parta da Rocco Tanica Parta da Rocco Tanica Sì Grande assente Grande assente Adesso vi confesso Che ero innamorata di lui Perché 27 anni Sì Andiamo Effettivamente esistevo Aveva ragione Paso E infatti Poi mi sono innamorata di voi Elio Elio Aspetta Cambiati idea Perché ci ha vinto da vicino Noi vi ho visti Sì Perché ha detto che vedendoci Ha capito che Rocco Tanica Il cambio è ammesso Il cambio è ammesso E' ammesso Perfetto E allora Sintetizzando Si tratta di un'improvvisazione Su una musica piuttosto semplice In quattro quarti Ognuno di noi Ha improvvisato Un testo Che occupa Uno dei quattro quarti Delle battute Sai che era battuto È Un Due Tre Quattro Un Due Tre Esatto Brava Allora io cantavo sull'uno Poi chi è che cantava sull'uno Forse tu No forse Cesario Cesario sul tre E Rocco Tanica sul quattro Quindi si sentono le quattro voci Che si alternano Continuamente Ognuna delle quali Racconta la propria storia Improvvisata Ma quanto vi divertite Il risultato è un bordello È un bordellaccio Ma pare che piaccia Voglio aggiungere su una cosa Le parole sagge Del mio amico Elio Ovvero che nessuno sapeva Cosa avevano cantato gli altri Questo è l'aspetto interessante Ognuno si è cantato la sua cosa Sul suo quartino I francesi lo chiamerebbero Divertismo Giusto? Sì Divertismo Perché in italiano Potrebbe dire divertimento Divertimento non è altrettanto interessante Però No Divertismo Un Divertismo Hai ragione Anche il francese fa figo Eh sì Tantissimo E non lo sapevo Adesso sì Allora ragazzi Ci avete messo anche poco Per fare questo disco Quindi ce l'avevate proprio Abbastanza poco Ce l'avevamo qua in testa E nel cuore Soprattutto qua E pare che piaccia Perché sta andando bene Cioè vogliamo vantarci un po' Che alla fine È uno dei dischi Dei partecipanti al festival Che ha venduto di più Credo il terzo O il secondo disco E cosa rispondete Che conferma Quello che ti ho detto prima Che le posizioni Sono estratte Sì Estratte a sorte Col bondage Col bondage Però La dea bondata La dea bondata Ok Non mi ricordo più Cosa vi stavo Stavo dicendo Cosa rispondete A chi vi dice A chi vi dice Che il picco della creatività È tra i 20 e i 35 anni Questo rispondiamo Ok Beccati questa Che non è vero Guarda Verdi ha composto La sua opera Più creativa Più originale Più strana A 80 anni Mi piace Il Falstaff Quindi insomma Fino a 80 anni Anche perché La musica Non ha mica problemi di età Cioè Se adesso noi decidessimo Di partecipare alle olimpiadi Non so Lui sui 100 metri Gli ostacoli Perché no Qualche difficoltà ci sarebbe Ti potremmo dire Ragazzi Forse siete un po' fuori età No io credo che sia In realtà Una condizione mentale Cioè Non è che è fisiologico Che è tra i 20 e i 30 anni Uno c'è il picco Della creatività E dell'idea Se uno vuole In realtà Resta sempre Originale Creativo Tutto quanto Il fatto è che dopo i 30 Uno tende a mettersi In poltrona Guardarsi il computer La televisione Invece Se uno vuole Penso che ce la possa fare Non è un vostro problema Non è un vostro problema Ah no Quello no Figatta De Blanc Ci salutiamo Con vincere l'odio La canzone dal festival Di Sanremo Che sta entrando Nelle grazie del pubblico Ma stanno capendo Il nostro errore È stato quello Di non farla ascoltare Prima del festival Non si poteva Ma purtroppo C'era quella regola Anche quella regola Anche quella è stata a soli Secondo me Tra un 3-4 anni Spaccherà Bene Grazie Elio Grazie Faso Grazie per essere stati con noi Figatta De Blanc Ciao a tutti Posso fare il pubblico Gli applausi erano registrati